Mi hanno aggredito sotto portone di casa, mi hanno messo le mani sulla gola dicendomi di farmi cazzi propri, che sono amica dei sbirri, minacciandomi di smettere la mia attività di difesa. Una lunga serie di minacce e aggressioni che l'hanno obbligata dopo mesi di paura a cambiare quartiere è la storia di questa inquilina di una casa popolare milanese che nel dicembre 2014 aveva denunciato le occupazioni abusive del proprio palazzo. Ho avuto le minacce scritte dentro la casella della posta e una sera stavamo dormendo hanno cosparso zerbino di liquido infiammante, di benzina, non so di che cosa. Mi hanno dato fuoco allo zerbino di casa. Io l'occupazione l'ho cominciato a denunciare dieci anni fa, però la situazione è peggiorata nel 2014 perché sono diventati abbastanza violenti.